Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui in ritornati su Fortnite per andare a fare una delle challenge più difficili che ho abbia mai fatto. Posso lutare le armi solo e soltanto con il falco, sia allo start ma anche durante la partita, quindi se dovessi killare qualcuno posso andarlo a lutare solo con il falco. Insomma, non credo sia troppo facile. Prima di continuare il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, GGY, tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite e mi raccomando ragazzule è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGY, tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie a voi di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace per supportare queste challenge, mettiamo pronto e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora io direi di andare in un punto un po' camperone, dato che andando in una città molto 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 frequentata ovviamente comporterebbe la morte certa, dato che io non posso raccogliere armi finché non prendo un falco. Tra l'altro nella challenge volevo aggiungere anche il fatto di non poter raccogliere le cure, però credo che alzerebbe drasticamente la difficoltà di una challenge che è già difficile di per sé, quindi intanto proviamo a farla semplicemente raccogliendo le armi col falco e le cure, però posso raccoglierle insomma come e quando voglio. No regà ci sta atterrando qualcuno, allora fermi tutti. Allora mi faccio al volo questo barilotto, prendo la moto e me ne vado, cioè che cosa devo fare? Qua ci sono armi, ci sono armi, ti prego dammi il falco, niente, prendo gli scildini. L'ho vista la moto eh, l'ho vista, però volevo giusto provare a raccogliere un paio di cose e lutare al volo per vedere se riuscivo a trovarlo immediatamente, ma qui me sa proprio de no eh, me sa proprio de no. Vabbè prendiamo la moto e cambiamo punto, ecco mi sta anche già sparando tra l'altro. Quindi è uno che è venuto in un punto un po' camperone, ma pusha, giustamente, non fa una piega, non fa una piega. No, cioè ho beccato anche il bottino bananita volendo, cioè in questa partita sarebbe stato più facile fare la challenge col bottino bananita che col falco. Mannaggia la miseria, che poi comunque devo dire il falco anche se è un'arma epica non è che io abbia mai avuto grosse difficoltà a trovarlo. Oggi che invece stiamo facendo la challenge ovviamente non lo troveremo. Eh la safe non è neanche così vicina ragazzi purtroppo. No c'è uno col falco, c'è uno col falco, non ho parole. C'è uno col... ma non ci posso credere ragazzi. Io l'ho detto che non è così difficile da trovare, giusto io potevo non trovarlo. Eh però regà io mi devo muovere con qualche veicolo perché devo essere in grado di scappare nel momento in cui qualcuno prova a spararmi. No regà, eh vabbè, eh vabbè. Eh raga, cioè c'è qualcuno ovunque. Eh vabbè questo mi sta anche inseguendo raga, meno male che non ha... Eh dai, meno male che non ha una buona mira. Che ho trovato un lama, ho trovato. Cioè sto trovando di tutto, sto trovando di tutto. Ho trovato anche due bunkatili, ovvero quattro totali. In no build che sono praticamente la cosa più rara del gioco. Ma niente falco, cioè davvero qualcosa di incredibile. Niente, ne ho trovati altri di bunkatili. Ne ho trovati altri. Ho trovato due chiavi per poter fare la challenge con solo le armi delle holo chest. Tutto sto trovando raga, tutto, 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 tutto il necessario per fare qualsiasi tipologia di challenge. Tranne quella per cui stiamo facendo il video quest'oggi. Perfetto, altri bunkatili, vabbè. No regà, si stanno sparando lì, mi sa, volevo andare lì nella casetta, vabbè. Porca miseria, oh, ma possibile? No regà, no regà, no regà. No, 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 no. No, 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 no. Che cosa fa? Ok, va bene. No. No. Qua l'aria la riesco a prendere? Sì, ok. Oh mio Dio. Madonna, regà, veramente, cioè la challenge è più difficile che io abbia mai fatto. Cioè, ma proprio a mani basse. Ma anzi, la partita di una challenge è più difficile che io abbia mai fatto. Perché poi in realtà se avessi trovato subito, subito... Ah no, è vero, aspetta, aspetta, aspetta. C'ho il perk, oddio, me l'ero pure dimenticato, raga. Me l'ero anche dimenticato. Di nuovo! Di nuovo la bananita, capito? Cioè, io oggi avrei potuto tranquillamente fare la challenge della mappa bananita. Tra l'altro, tra parentesi, aspettatela perché prossimamente lo vorrei fare come video. Eh vabbè, eh vabbè. Allora, fermi tu. Sì, vabbè. Oh mio Dio, mi ha segnato altri passi pure lì. Cerchiamo di correre, cerchiamo di correre, cerchiamo di correre. Ce ne andiamo. Oh, ma comunque è incredibile. Cioè, ma è incredibile sta cosa, ragazzi. Ma è possibile neanche mezzo falco? Cioè, io ho capito che era più facile, mi sa, trovarlo in uno dei posti lì dei giurati, eh. Lo so. Però il falco si può trovare ovunque. E non ho mai avuto così tanta difficoltà nel trovarlo. Eh, niente, un altro che lo sta utilizzando. Cioè, ma allora mi prendete in giro. Eh, niente, uno con la macchina. Spero non m'abbia visto, ragazzi. Ma penso proprio di sì, eh. Ecco, poi, attenzione, il martello lo posso usare. Lo posso usare solo per scappare, ma lo posso usare, eh, regà. Nel senso, non lo posso utilizzare come arma. Oh mio Dio. Oddio, quello è un NPC, per fortuna. Altri bunkatili che non prenderò, dai. Non prenderò stavolta. Regà? C'è questo qua che ha quittato? C'è questo qua che ha quittato? Eh, vabbè. Perché sto iniziando a pensare che forse è meglio andare a lutare dove è morta la gente, sperando che qualcuno abbia preso il falco. Il problema è che ormai ci stiamo avvicinando in endgame. Regà, io mi sono fatto tutta la mappa e non ho trovato neanche un falco. E niente, qualcuno che sta in groppa ad un lupo, poco più in là. Qualcuno che spara. Regà, io non so più che cosa fare, sincero. Oddio, avevo visto Viola. Per un attimo ci ho sperato, vi devo dire la verità. Per un attimo ci ho sperato. No, vabbè, regà, dai, su, io mi arrendo. Mi arrendo totalmente. No, no, regà, non so più dove andare a lutare. Cioè, è finita la partita. Non ho neanche la scusa del, dai, l'hanno tolto. Perché ho visto tre, quattro persone utilizzarlo. Quindi, insomma, di sicuro non l'hanno tolto. No, regà, mi sa che ho sentito qualcuno qua nel cespuglio. Mi sa che c'era qualcuno lì nel cespuglio. Allora, qui? Dai, qua, nella parte dei giurati. Ci deve essere per forza. Posso piangere, eh? Dai, per favore, fatemi piangere. Cioè, regà, che io poi, ovviamente, non è che sto andando in giro per la mappa così. Cioè, io sto veramente entrando nelle strutture. Sto cercando di lutare. Cioè, lo sto cercando davvero ovunque. Siamo rimasti in tre, regà. Eccolo! Non ci posso credere. Allora, fermi tutti. Allora, fermi tutti. Prendo subito questo pump. Con delle bende, va bene. Però intanto ho un pump. E faccio così. Così. Intanto mi prendo il pump. Vabbè, dai, vado in giro con solo due buntatili. E poi mi prendo lo scar. E poi mi prendo lo scar, regà. Dai. Oh mio Dio. Prendimi lo scar, per favore. Perfetto. Ragà, va benissimo. Cioè, io l'ho preso. Me lo son messo qui. Tra l'altro anche tutto storto. Ma va bene. E... Ah, regà! Cioè, tanto ormai siamo in endgame. Io il falco posso anche lasciarlo. Cioè, devo dire ottimo... Ottimo utilizzo del falco. No, ci manca solo che esco così e muoio praticamente. Perché tanto questo sarà il mio endgame. Eh, lo sapevo. Da dove poi, tra l'altro? Ma da dove? Cioè, da dove? Da dentro il cespuglio, mi sa. Sì, da dentro il cespuglio, ho confermato. Lo confermo. Cioè, quello sta dentro il cespuglio, però mi spara, ok? Allora, vediamo un po'. Godo. Eh, quando si gode, si gode, però, eh? Tra l'altro, regà, il fatto che ho lutato un botto ve lo giustifica anche il fatto che ho una marea di colpi. Cioè, io non ho problemi di colpi, nonostante non abbia lutato armi, praticamente. Non ho problemi di colpi perché banalmente ho lutato come un cane, fino a mo'. Tra l'altro qui sotto avrei potuto lutare molto meglio, eh? Ma se avessi avuto il falco per almeno un po' più di tempo della partita... Eh, guarda qua che avrei potuto lutare. Vabbè. Eh, rimaniamo umili. Rimaniamo umili. Eh, allora, qualcuno mi ha spottato, raga, quindi... Ma c'è... Palese. Palese, palese. Qualcuno sta lì. Eccolo là, sta sopra. Sta vicino l'albero, raga, ma il problema è che lui è in safe. Lui sta dietro quell'albero lì, che copro io con la cam. Ecco, questo albero qua, per intenderci. Lui sta... Eh, vedete... Oddio mio! Non ci credo. Non ci posso cred... Non ci credo. Non me la meritavo. Non me la meritavo così, ragazzi. Decisamente non mi meritavo una morte come quella. Cioè, dopo tutta la partita che avevamo fatto, ragazzi, come minimo ci meritavamo una vittoria reale. Come minimo. Comunque, questa volta proviamo a cambiare strategia. No, non andrò in una delle città più frequentate della mappa, bensì andrò in quelle casettine lì, che tecnicamente dovrebbero avere diverse chest dei giurati, che a questo punto potrebbero regalarci la gioia di darci almeno un falchetto. Cioè, dai, dopo la partita di prima me lo merito questa volta di trovarlo allo start. Innanzitutto, già il fatto che sono atterrato qui da solo è una vittoria. Quindi, vediamo un attimino. Però... Allora, no, fermi, però. Non posso lutare. Devo fare. Così. Mamma mia, regà. Un po' mi cringe a sta cosa, però, eh. Ah, no, aspetta. Ah, no, ma è lo scar, regà. Pensavo fosse... Non so perché pensavo fosse una mitraglietta. Ok, me lo son portato con il... Con il falco, quindi mi posso prendere l'occhi rossi viola. Il falco, ovviamente, questa volta ce lo portiamo per tutta la partita e adesso andiamo a lutare un pochino in giro. E farò una cosa anche molto carina. Cioè, starò qui, aprirò la porta e andrò in giro semplicemente con il falco. Cioè, cercherò di lutare questa zona solo col falco. E mi porterò qui, appunto, tutto il loot. Allora, ci apriamo questa chest. Uh, molta roba interessante, ragazzi. Anche il... No, 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 aspettate, va. Ah, prendi tutto. Bravissimo, falchetto. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Scendi, scendi, scendi. Si è incastrato. Si è incastrato. Non riesco a scendere. Ok, perfetto. Allora, ritorniamo a noi. Ritorniamo a noi. Ci prendiamo le curabomba. Tra l'altro, io credo che andranno a disattivare il falco il prima possibile perché mi sembra un pochettino buggato. Mi sembra un pochettino buggato. Detto questo, dato che sono riuscito già a lutare qualcosa, direi che possiamo provare ad andare a fightare. Non lo so. Cioè, più che altro perché vorrei provare ad avvicinarmi a qualcuno, ucciderlo e poi andarlo a lutare col falco. Cioè, vorrei provare questa ebbrezza. Però prima, dato che ce l'abbiamo, lo andiamo un attimino a sfruttare. Cioè, cerchiamo di capire dove sono i nostri nemici. A cui però, ovviamente, starà già segnando il falco. C'è qualcuno qua? Uh, sì che c'è qualcuno qua. Sta proprio qua sopra, raga. Sta proprio sopra il tetto. Allora, no, no, no. Si sta allontanando. Ah, si è fatto le cose. No, ha preso la macchina, raga. Lo volevo pusciare. Porca miseria, lo volevo pusciare. Vabbè, sarà per la prossima volta, amico mio. Ok, raga, c'è quello là sopra che potrei anche, esatto, laserare. Il problema è che lui sta sopra. Dai, un'altra hit. Mi deve entrare un'altra hit. Ok. Oh, mio Dio. L'avevo capito che era one shot, ma non mi entrava l'ultima hit. Mannaggia, la miseria. No, raga, qua potrei fare, appunto, la mossa. Cioè, mi nascondo qui e lo vado a lutare con il falco. Eh? Che ne dite? Che ne dite? Allora, vediamo un pochettino. Su quale torre è morto? Su questo. Eh... Uuuuh. Uuuuh. Allora, no. Fermi tutti. Ah, ok. Ho preso tutto così. Va bene. Devo ancora imparare... Allora... Sto riuscendo ad utilizzarlo abbastanza bene. Devo soltanto imparare a raccogliere meglio la roba. Giusto quello. Giusto quello, raga. Giusto quello. Allora, hanno, tra l'altro, conquistato qui la zona. Non so se l'avete sentito. Quindi direi che è arrivato... Uuuuh. Eh, vabbè, mamma mia, quanto faccio schifo, ragazzi, con la mira. Mannaggia, la miseria. Si sta anche curando, ovviamente. Ma porca miseria! Ok. Non aveva capito che io fossi qua fuori. Allora, vabbè, no, no. Aspettate, lo shieldone lo posso prendere. Stavo per dire, lo devo lutare con il falco. No, le cure le possiamo lutare anche così, ragazzi, eh. Ricordiamoci, questa cosa è molto importante. Non ha armi che ci interessano, raga. Quindi direi anche chi se ne frega. Qui ci sono altre cura bomba. Anche se so solo due per adesso ce le prendiamo. E direi che per ora andiamo avanti così. No, raga, ma... Ma? Ma? Ma vabbè, non mi entra... Regà! Ma non mi entrano le hit! Cioè, già faccio schifo io, no? Buongiorno, regà, questo si chiamava. Vabbè. Cioè, già faccio schifo io, no? In più, non mi entrano nemmeno le hit... Oh, mio Dio. Ma tu... Ma da dove mi sta... Vabbè, questo è un bot, raga. Cioè, mi stava sparando? No, se lo sta pushando uno da dietro. Se lo sta pushando uno da dietro. Vabbè, ma che cucciolotti sono? Ma... Oh, mio Dio, anche... Sì, vabbè. Questo dietro non è un cucciolotto, per niente proprio. Ma in realtà neanche questo se ne sta riandando con la macchina. Sto maledetto mi ha rubato la kill e se ne va con la macchina. Cioè, hai capito? Tra l'altro, quello che mi stava sparando alle spalle, spero che adesso se lo pushi questo qui, raga. No, col cavolo, non sto sentendo... Ah, sì, 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 che sento spari. Niente, mi sono ritrovato in mezzo a 28 avversari. Scusate un attimo, eh. Ma questo... No, raga, questo sta sopra, però. No, no, no. Non mi conviene pusharlo da sotto. Eh, raga, vorrei utilizzare il falco, però non so quanto mi convenga, perché dovrei trovare una copertura per utilizzarlo. Ma io sono abbastanza convinto che questo sia qua sopra. Non ha neanche lootato la chest qua. Oh, mio Dio, ha fatto prendere un colpo il might! Allora, no, facciamo una cosa. Mi metto qui dentro e lo utilizziamo un pochino. Utilizziamo un pochino il falco per cercare di capire la gente dove... Oh, dove la... Oh! Oh! Eh, dai un po'... Oh, falchetto! Si è incastrato. Vabbè. Va bene, si incastra facile, eh. Si incastra molto facilmente. Allora, dove potrebbero essere questi personaggi? Perché... Oh, sento spari ovunque in realtà, eh. Sia a destra che a sinistra. Vedete anche di qua. Vedete, c'è uno lì che si sta curando. Ok, torniamo. Ok, 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 ok. Allora, facciamo ancora parkour pure se non mi interessa in realtà. C'è gente con lo smash, quindi occhio. Ma raga, io a questo punto me ne vado... No, ma io me ne vado in safe, raga. Cioè, ce l'ho tutti alle spalle o a destra? E la safe sta di qua. Quindi direi di andare di qua. Ma proprio molto serenamente. Eh, ma... No, no, c'ha la mitraglietta, raga. Mamma mia. Ma raga, ma vi giuro, non lo avevo visto. Cioè, ma completamente zero, zero, zero di zero. Cioè, com'è possibile che non l'avevo visto, raga? Non lo so, non lo so, non l'avevo visto. Anche perché ero concentrato dall'NPC che voleva andare a parlare con l'NPC. E quindi lui l'avevo completamente rimosso dalla mia vista, evidentemente. Cioè, i miei occhi hanno detto, no, no, non esiste. In realtà non esiste. Eh, comunque una mitraglietta mi sa che è meglio se me la prendo, però, eh. Il problema è che le ho trovate tutte bianche, verdi, insomma. Volevo trovare qualcosa di più interessante. La macchina ha fatto pure un bel botto. Ok. Non so se mi ha visto. Oppure, comunque, se mi ha visto, se ne sta andando. Perfetto. Meno male che c'aveva questa di mitraglietta, ragazzi. Se avessi avuto l'altra, probabilmente mi avrebbe distrutto. Uh, fucile pesante percussore che però lo dovrebbero aver disattivato, ma te lo fa sbloccare. Cioè, non dovrebbe funzionare, ma te lo fa sbloccare. Io nel dubbio lo sblocco. Così almeno ce l'ho già per quando poi tornerà disponibile. Allora, vediamo un attimino in giro. Posso andare in aria, in a... Quanto posso andare in alto? Tanto in realtà, raga. Allora, vediamo un po'. In giro qui non vedo nessuno. Però credo che al benzinaio ci sia qualcuno, eh. Sì, sì, sì. Vedete, vedete, vedete che al benzinaio c'è gente. Al benzinaio c'è sempre gente. A questo benzinaio qui, raga, c'è sempre qualcuno. È incredibile. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, pinghiamolo. Perfetto. Così sappiamo che sta lì. E piano piano ci avvicina... Ah, no, però lui se ne sta andando, raga. Però dovrebbe venire verso di qua per venire in safe. Perché se ne sta andando di là? Ah, perché sta andando... No, mi ha visto? Ma mi ha... Come ha fatto a vedermi? No, raga, c'ha una mitraglietta. Ma perché c'hanno tutti quest'altra di mitraglietta, ragazzi? Eh, allora, no, aspettate, mi prendo lo scar. Mi prendo lo scar perché se non riesco a trovare delle buone mitragliette... Preferisco lo scar. Oh, vabbè. Ok. Allora, fermi tutti. Mi devo coprire meglio. Ma veramente lo sta usando su di me, eh? No, ok. Eh, raga, allora, fermi tutti. Mi prendo al volo lo scar. No, 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 lo scar, lo scar, lo scar. Falco, lo scar, per favore, prima che mi lasi, Renu. Ti prego, ti prego. Ok. Mi ha preso anche la mitraglietta, eh? Ma ribadisco con la mitraglietta. Preferisco non averla. Il problema, raga, è che prendo il falco occhi rossi... Eh, sì, falco occhi rossi. Vabbè, avete capito. Niente, sto ponendo le cose. Oddio, la mitraglietta l'avrei trovata. Vabbè, proviamo con lo scar. Preferisco il fucile assalto occhi rossi, raga, perché da lontano riesco a mirarci meglio, sinceramente. Comunque stanno tutti con lanciarazzi, eh? Non so anch'io se prenderlo, però per adesso... Per adesso rimaniamo un po' così. Raga, sento martelli ovunque. Cioè, ma tipo... Oh! Noi potremmo metterci qua sopra, ragazzi, eh? Che è anche nella prossima safe. No, raga, c'è uno anche là sopra. Mi dovrei mettere in un punto in cui sono coperto. Però no, mi sa che con queste finestre mi vedono ovunque, rip. Mi dovrei mettere tipo così. Qua possiamo spaccare. Oh, 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 oh. C'è qualcuno che sta venendo qua vicino. Allora, fermi tutti. Facciamo così. Facciamo con il falchetto e andiamo a vedere la situazioncina. Hanno provato a sparare il mio falchetto? Ah, qua nel cespuglio non c'è nessuno. Ah, stanno qui, stanno. Però vorrei capire se ce n'è... Nannaggia. Volevo capire se c'era una sola persona o se sono in due. Vedete che mi sta affaitando? No, sta venendo qui. Ok. No, raga, siamo di pochissimo. Di pochissimo non siamo nella prossima ancora. Eh, questo qui, ragazzi, me lo son perso di vista, eh. Questo qui, raga, me lo son perso completamente di vista. Non ho più paledare di dove possa essere. Mannaggia la miseria. Mannaggia. Uh. Mi sparano da di là. Apriamo questa chest. No, aprila. Oddio, in realtà le cura bomba potrei prendermele. Sì. Eh, no, me l'han distrutto. Va bene, va bene. Volevo provare a prendermi quelle cura bomba, ma niente. Passi. Ok. 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 Uh, c'era lo sparaslurp, raga. No. Anche qui dietro mi hitta, su. E dai un po'. Non sto capendo, raga. Allora, no. In realtà mi vorrei anche riprendere. Ma quello sta... Quello, raga, è quello che sta sopra la montagna da tipo due anni. Quello sta lì sopra e non fa nient'altro che rimanere lì sopra, va bene. Eh, non so se prendere lo sparaslurp, raga. Però per l'endgame forse sono più comode le cura bomba a sto punto. Poi con lo sparaslurp dovrei togliermi qualcosa. Vabbè che ormai posso anche togliermi il falco, eh. Cioè, ormai credo che chiuderò la partita così. Però, insomma... Dai, a questo punto ce lo portiamo fino alla fine. Finché non moriamo. No, raga, c'è qualcuno dentro gli cespugli qua. Ne sono... Sì, ok. Confermato. Ok. Non mi entra... Cioè, raga... Oh, ma possibile? Ma neanche una hit, raga. C'è nemmeno una. Nemmeno una, raga. Ok. Adesso così da fermo già è stato un po' più facile. E va bene. Però, porca miseria, faccio proprio schifo con lo scar, raga. Ah, mi metto qua sopra? Let's go! Easy kill. Siamo rimasti in tre, signori. Ah, però vorrei vedere un attimino quello lì che c'aveva. Vediamo un po'. Allora, occhi rossi leggendario. Cura bomba, corona. Vabbè, no. Non mi interessa, ragazzi. Non mi interessa. No, no, non ci interessa. Oh, a chi sta sparando qui? Mi sta cercando di... Sì, mi sta cercando di spaccarmi le coperture. Quello sta là sopra e spara a chiunque, tipo. Eh, il problema è che mi ha distrutto qui l'albero. Io mo' dove copro? Come faccio? Porca miseria. Guardate questo qui. Guarda, guardalo, guardalo, guardalo. Che poi c'ha pure una mira allucinante. Maledetto a lui. Maledetto, regà. Eh, mi devo muovere per forza di cose con il martello. Mi devo prendere queste cura bomba, raga. Almeno mi sono un po' ricaricato di cura... Ok, sta sparando... Eh, no, sta sparando a uno qui. Quindi quell'altro sta qui, ragazzi. Quell'altro è qui e infatti si sta curando. Ok, si è spostato finalmente quello. Provo a fare il giro dietro a questo qui? No, in realtà non so quanto mi convenga. Il problema, raga, è che io qua non ho più coperture. Mi sarei dovuto portare un buncatile. Eh, oh, mi vede... Eh, vabbè. Raga, è inutile, è inutile provare... A... A sparare contro di quello. Cioè, c'ha una mira veramente assurda. Allora... Eh, vabbè, mi ha pure pingato. Ok, se ne sta andando. Eh! Ma, raga... Ma l'ho... Ma... Ma stava di spalle! L'ho lasciato con 39 di vita, ma mi ha sparato di spalle! Come ha fatto? Ma poi, tra l'altro, se ne stava andando col... No, raga, mi... No, mi devo... Mi devo rivedere il replay. Mi devo rivedere il replay. Tra l'altro, nuovamente terzi. Non lo so, oggi è il giorno del 3. Cioè, tra l'altro, ribadisco come ci abbia detto malissimo anche adesso. Cioè, l'abbiamo lasciato con 39 di vita, praticamente. Ma io non ho capito come ha fatto a dittarmi se era di spalle. Cioè, ma era girato, ragazzi. Cioè, io gli ho fatto il salto alle spalle. Come diavolo ha fatto? No, raga, qua che cosa mi sta facendo vedere? Allora, no, andiamo a vedere questo. Eccolo qui, eccolo qui. Allora, no? Lui? 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 Adesso utilizza il martello. Ah, così proprio. Ha preso anche danno da caduta. Cioè, ma queste hit da dove entrano? Cioè, da dove entrano queste hit, ragazzi? Cioè, guardate. Cioè, come fanno ad entra... Cioè, non entrano mai queste hit, raga. Cioè, non entrano veramente mai. Qua ovviamente non mi aveva ettato. Qui gli ha dato la hit. Cioè, stava girato. Ok che io adesso stavo qui. Non ero proprio alle sue spalle, no? Ma ha sparato tipo in alta a sinistra. Io stavo in basso a destra e mi ha preso. Va bene. Dai, almeno sta partita è stata un po' più emozionante. Ci sono fatti un bel po' di kill e abbiamo lutato un sacco col falco. Ma ha fatto proprio... Raga, oggi sto veramente rusicando. Mannaggia, la miseria. Detto questo, ragazzi, mi raccomando. Vi ricordo, il codice creatore GGYT, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite. Fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciando un bel mi piace per supportare questa tipologia di challenge. Per me è tutto. Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!